Ma quando lo posso fare il bagno? Da quando è che non mangi? Non mangio da ieri in notte E fra tre ore allora Dai C'ho anche fame Dai zitto Fai finta di niente Fai finta di niente Buongiorno, come va? Tutto bene? Ehi come va? Come va a comprare? Comprare qualcosa? No, non ci serve niente Comprare qualcosa Pallina da tennis Asciuga mano Asciuga mano Capelino Capelino Good price Good price Prezzo buono Prezzo buono No, non ci serve niente Comprate qualcosa Comprate pallina Pallina Comprate Cosa vuoi? Cosa vuoi? Comprate qualcosa? Compri qualcosa? No, non ci serve niente Compri Compri qualcosa? Compri 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 qualcosa? Ma porca Aia capo, aia capo Batta, capo Batta